L'avventura di questo libro parte da Roma e arriva in Grecia e racconta di una giovane donna che è ancora molto coinvolta dalla vita familiare, dai rapporti con la madre, con il padre, con il fratello, con le amiche, con tutta la quotidianità e le abitudini che emanano dalla beatitudine domestica. Però a un certo punto ha una proposta che non può rifiutare, una proposta molto ambiziosa, di portare a termine un lavoro. Contribuire a una sezione di un canone occidentale di poesia. E quindi decide di partecipare, i dettagli del progetto sono abbastanza fumosi, e per concentrarsi meglio decide di ritirarsi su una piccola isoletta del Dodecaneso dove non sarà disturbato e potrà lavorare. Ora il punto è che lei ha iniziato altre volte dei progetti ambiziosi, in alcuni casi autofinanziati o non richiesti da nessuno. Questa volta qualcuno sembra chiederle di contribuire a qualcosa di intellettuale per cui lei si sente portata. E quindi si stacca, se ne va su quest'isoletta e lascia a Roma tutta la vita nella quale era stata immersa fino a quel momento. Lascia la madre, il padre, il fratello, un fidanzato e delle amiche. E quindi metà della vita che lei comincerà ad avere su quest'isola sarà impiegata nelle conversazioni telefoniche con queste persone e nel pensare a queste persone, nel pensare a queste persone e nel pensare alla sua vita di prima. E l'altra metà sarà dedicata al lavoro. In realtà poi insieme al lavoro c'è una riflessione che ha a che fare con il senso della vita, con il senso della poesia, con il senso del sentimento di una missione e però c'è anche un'insoddisfazione ovviamente, altrimenti forse non sarebbe mai partita. E questa insoddisfazione emerge con più o meno autoironia, con più o meno autoconsapevolezza. Sull'isola fa amicizia con una ragazza molto ingenua, ma anche molto coraggiosa, molto diversa da lei che si chiama Cora. E quindi una parte della sua vita dell'isola è una parte anche impiegata nel conoscere questa ragazza e nello stringere con lei un'amicizia molto diversa da quelle che ha avuto fino a quel momento. E questa ragazza un po' le è discepola, un po' le è maestra e quindi ovviamente viceversa. E ci sono una serie di avventure, ci sono quindi anche le persone e le cose e le idee con le quali lei si incontra che fanno parte però dell'isola. Quindi c'è questa scissione tra le persone che ha lasciato nella vita di prima, le persone che incontra nella vita sull'isola e poi ci sono i poeti perché lei deve scrivere di poeti e quindi ogni tanto c'è un capitolo che poi entra formalmente nella narrazione del libro, che è un capitolo non sempre vero, però anche verosimile su Jean-Jacques Rousseau, su Clemente Rebora o su Gesù Cristo, anche perché poi purtroppo le prende la mano e il progetto del canone occidentale di poesia comincia a diventare qualcos'altro. Quest'isola per lei è l'occasione di scrivere un canone occidentale, quindi è l'occasione per l'autrice di riflettere su dei temi che hanno a che fare con la poesia ed è l'occasione per guardare da lontano quello che le è più caro e che deve decidere se tenere o abbandonare e poi è il momento il suo soggiorno sull'isola è il momento in cui lei capisce che la sua ambizione l'ha portata un po' distante da quello che poi rende felici, che sono delle cose molto semplici che hanno a che fare con l'identità e anche con il genere di un individuo. Lei intellettualmente è contraria alla separazione al partire, anche perché è un tema attuale del quale discute spesso con i suoi amici, è un tema del quale discute spesso perché spesso i suoi amici partono, partono per cercare fortuna altrove e lei teoricamente non avrebbe bisogno ancora di cercare fortuna altrove o comunque non se lo dice anche se è realizzata perché sta troppo bene a casa ed è troppo invischiata con la felicità domestica, con gli agi della vita domestica, però c'è qualcosa che la forza a partire per staccarsene, fondamentalmente lei parte per separarsi dalla madre perché poi c'è questa figura della madre che lì o al telefono è sempre molto presente e la madre poi è la casa e infatti lei dice a un certo punto che viaggiare è separarsi dal demone della casa ed è una separazione, poi lei affronta un soggiorno, non un viaggio, non una peregrinazione, però in questo soggiorno in qualche modo forzato perché sembra che qualcuno ce l'abbia mandato a volte su quest'isola, non è lei che ha deciso di andarci, lei sta mettendo alla prova la sua separazione da questo demone della casa. Il fantasma della letteratura è la seconda ragione per cui lei va sull'isola, quindi staccarsi dal demone della casa e affrontare il demone della letteratura, in questo caso è la poesia perché tra le varie forme della creatività umana, anche se lei è interessata a tutte, si sente particolarmente votata all'esplorazione della poesia, quindi lei ha questa ambizione che è quella di poter dire lei cosa è bello e che cosa è brutto, quindi non tollera che qualcuno possa pensare che un grande poeta non sia un grande poeta e che un cattivo poeta invece possa essere un bravo poeta, quindi c'è innanzitutto una sorta di arroganza che deriva da questo, che è un'arroganza che poi è quella delle antologie in generale, infatti lei lavorerà un canone che è qualcosa di molto arrogante perché selezionare, decidere chi può entrare e chi non può entrare in un canone è già qualcosa che dà stupore, quindi la possibilità di raccontare da angolature del tutto diverse e con una certa arroganza quello che è l'ossessione, ovvero la poesia e poi anche la letteratura, però poi lentamente anche la storia perché cominciano a entrare nei suoi pensieri e nel suo lavoro personaggi che non hanno nulla a che vedere con la biografia e con le ragioni per cui lei è stata chiamata all'interno del progetto del canone, che sono personaggi che in qualche modo per lei però rappresentano dei personaggi poetici, dei personaggi che hanno cambiato la storia della letteratura occidentale. In realtà poi andando avanti nel libro quello che si capisce è che ciò che è giusto e ciò che funziona meglio per un individuo è strettamente legato alla vita biologica emotiva quotidiana di quell'individuo, anche della donna. Poi il libro parla di una donna e ci sono anche degli uomini, però è un libro fondamentalmente che parla di amicizia femminile e del rapporto che le femmine intrattengono con gli uomini e il modo in cui questi rapporti poi diventano o letteratura o fatti, storie, piccole o grandi biografie. Probabilmente nella questa sorta di cattività emotiva che lei prova sull'isola e che poi contagia anche un po' gli altri personaggi c'è un po' Dick Bergman che io amo molto.